E' hard to breathe, but that's alright E abbiamo tanti bei pacchettozzi, come ben sapete sono usciti TOTS della serie A E oggi abbiamo due pacchetti TOTS 98+, special più pacche, special pacche, TOTS 2% pacche, UCL Gold Pack Quindi di tutto e di più Speriamo di sculare nel pacchetto TOTS 98+, e direi proprio di iniziare da uno di questi TOTS 98+, Vediamo cosa ci esce Ed è del Liverpool Ed è Manet 98 del Liverpool, signori, non male Manet 98 del Liverpool E questo era il primo dei due pacchetto Andiamo col secondo pacchetto nella speranza di sculare ancora Vediamo, vediamo, chi ci esce, vediamo Signori Manet doppione Il più scarso di 98+, CR7 CR7 No, 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 Messi No, 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 no Manet, si Ma, si Che sfiga Che sfiga Vediamo Ed è IF IF dell'Uruguay Del Getafe Suarez 82 2 andiamo ancora avanti questa volta è l'icona icona inglese inglese attaccante ed è barnes 87 icona non male andiamo ancora avanti ed è attenzione tots tots inglese dell'oxford harry 84 sculare non se ne parla proprio anche ed è solamente if nuovamente italiano del torino il gallo belotti 84 andiamo ancora avanti ed è walk out ororaro ed è spagnolo del real madrid difensore centrale ed è proprio lui ramos 89 non male andiamo ancora avanti vediamo ororaro normale bruno fernandes 75 trovato 20 mila volte ancora andiamo avanti in questi pacchettozzi signori ed è di nuovo icona icona inglese difensore centrale ed è campbell 85 tutti gli scarsoni stiamo trovando di nuovamente icona signori pack to pack tedesco portiere ed è 88 leman andiamo ancora avanti ed è ororaro normale ed è hans 85 del real madrid andiamo ancora avanti ed è solamente if 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 belga del club bruge vanaken 83 andiamo ancora avanti ed è solamente if if portoghese quaresma 84 ancora andiamo avanti ed è solamente if inglese avram 81 ci andiamo a scioppare qualche pacchetto per vedere di sculare allora andiamo allora andiamo con pacchettozzi bc 96 più pacchetto vediamo vediamo cosa ci esce ed è spagnolo isco 96 del real madrid andiamo avanti andiamo avanti con food champs pack vediamo cosa ci esce di succoso vediamo se non ci esce proprio uno scasso ed è ma l'è 90 trovato per la terza volta per la terza volta signori per la terza volta andiamo con un totti non pack andiamo avanti tutti così vediamo è brasiliano del piemonte calcio alexandro 86 ancora attenzione walk out walk out del napoli ed è difensore culibali 89 non male quindi ragazzi spero che il video vi sia piaciuto lasciate un bel mi piace nei commenti fatemi sapere la vostra iscrivetevi al canale condividete il video ovunque e detto questo vi ringrazio per aver visto il video qui da johnson on case è tutto ciao ciao